Per Radio Radicale vi proponiamo ora le dichiarazioni degli esponenti dell'opposizione all'uscita della Commissione Bilancio, dove la manovra è ritornata questa sera prima del ritorno in Aula. E' scoppiata una forte polemica sulla App 18 e le opposizioni attraverso l'onorevole Marattin del terzo polo avevano chiesto dei chiarimenti sulla copertura, chiarimenti che non sono stati graditi in particolare da Marattin ma anche dalle altre gruppi parlamentari delle opposizioni. A quel punto c'è stato uno scontro molto forte tra l'onorevole Marattin e l'onorevole Trancassini e mentre era in corso questo scontro il Presidente della Commissione Bilancio Mangialavori ha aperto le votazioni sugli emendamenti da correggere in Commissione Bilancio. Queste sono le dichiarazioni che hanno fatto gli esponenti delle opposizioni, si tratta dell'onorevole Marattin del terzo polo, dell'onorevole Guerra del Partito Democratico e dell'onorevole Grimaldi di Sinistra Italiana Verdi e dell'onorevole Dell'Olio del Movimento 5 Stelle. Queste sono le loro dichiarazioni.